L'anima o anima è un'opera del filosofo latinese Aristotele, il titolo originale è per i psiches. Nell'opera si parla appunto dell'anima, delle forme più elementari di essa e di quelle più complesse. Il termine greco psiche indica l'anima intesa come i principi di tutte le forme di vita. La trattazione procede dalle forme più elementari, la vita delle piante, le funzioni intellettuali dell'uomo, quindi quelle più complesse, toccando problemi quali la relazione tra anima e corpo, la funzione dei sensi, il rapporto tra istinto e ragione, la natura e il funzionamento dell'intelletto. Nella forma in cui è giunta a noi il trattato sull'anima comprende tre libri. Il primo libro si apre con l'indicazione dei problemi dei metodi della psicologia, individuato l'oggetto della ricerca, ovviamente parliamo di una psicologia filosofica, non di una psicologia scientifica e sperimentale. Aristotele espone, dopo aver fatto questa individuazione dell'oggetto della ricerca, espone le difficoltà nel determinare il metodo da seguire nello studio dell'anima. Viene proposto un procedimento di ricerca distinto in due fasi complementari. La prima fase è definire che cosa è l'anima e ricavare per deduzione le sue caratteristiche, come in matematica. La seconda fase è ricercare induttivamente, quindi conformamente all'esperienza, i caratteri dell'anima e da questi risalire alla definizione. Il primo libro si chiude con le critiche alle dottrine sull'anima dei pensatori precedenti, che sono appunto Pitagora, Eraclito, Democrito, Empedocle, Anastagora e anche Platone. Il secondo libro enuncia due definizioni che si integrano tra loro, l'anima e sostanza nel senso che forma di un corpo naturale che ha la vita in potenza ed è l'atto primo di cui un corpo naturale, di un corpo naturale che ha la vita in potenza. In seguito Aristotele propone di esaminare la facoltà vegetativa che appartiene a tutti gli esseri viventi, non solo le piante, ed è il fondamento primario che rende possibile qualsiasi tipo di vita. Le proprietà fondamentali che la caratterizzano sono la riproduzione e la nutrizione. Con la prima si garantisce la conservazione della specie, con la seconda quella del singolo individuo. La seconda facoltà esaminata è quella sensitiva che riguarda le funzioni proprie degli animali che si aggiungono a quelle dell'anima vegetativa. La più importante di essa è la sensazione. Il termine sensazione, dal greco aicesis, è usato da Aristotele per disegnare tutti i processi della conoscenza sensibile. Nel terzo libro Aristotele esamina l'anima razionale cui attribuisce quattro funzioni pensare, comprendere, sentire e immaginare. Nell'indagine sulla funzione del pensiero sono rivolti i capitoli centrali del libro che studiano l'intelletto, Aristotele distingue tra un intelletto passivo che riceve le impressioni del mondo esterno da un intelletto attivo che produce i concetti astratti L'intelletto passivo è corruttibile e mortale e l'intelletto attivo è eterno e unico per tutti gli uomini.